Ciao a tutti amici di Avriai, bentornati per una puntata speciale! Perché anche noi siamo in diretta da Los Angeles! Per questo E3 è fantastico, E3 2014, non vediamo l'ora di mostrarti! Ciao a tutti amici di Avriai, siamo qui in esclusiva per raccontarvi questo E3 2014! Come potete vedere sono le prime luci dell'alba e siamo ancora in piedi miracolosamente grazie a queste! Chiaramente anche gli occhiai da sole sono funzionali per nascondere le occhiaie! Ma non possiamo nascondere la nostra infinita gioia per l'E3 che si è appena concluso, per la prima giornata, la giornata delle conferenze! Siamo infatti molto soddisfatti per com'è andata sinora, questo è soltanto il primo di una miniserie di video che ci accompagneranno lungo tutto il corso dell'E3 e che includeranno delle nostre opinioni, dei nostri pareri... Ma soprattutto la nostra personale classifica di quelli che sono secondo noi i 20 momenti più belli dell'E3 o almeno del primo giorno e includeranno anche le nostre reazioni e le nostre opinioni! Che sono basate esclusivamente sul nostro gusto personale e che non vogliono rappresentare alcun tipo di valutazione oggettiva, soprattutto quelle del TOD! Ma basta chiacchiere e partiamo subito con la classifica! Alla posizione numero 20 troviamo Super Ultra Dead Rising 3 Arcade Remix Hyper Edition X Plus Alpha Titolo che ci ha colpito non solo per la sua simpatia e per la sua autoironia, ma soprattutto per il nome E' il delirio! Ci ha messo tutti i personaggi! E' bellissimo! E' bellissimo! E' bellissimo! E' bellissimo! Plus Alpha Hyper Edition! Alla posizione numero 19 troviamo The Crew Un gioco di corse automobilistiche audace, forse l'unico in grado di dare una scossa al genere E' un gioco che è un gioco che paradossalmente ha una componente altamente RPG perché esistono le classi di macchine e in base alle classi noi abbiamo un ruolo nei colpi Quindi è un gioco molto diverso da quelli a cui siamo abituati e per di più free roaming con il cost to cost, quindi una mappa enorme, smisurata, guarda! Alla posizione numero 18 troviamo LittleBigPlanet 3 Il motivo è presto detto, basta guardare le nostre facce Cosa? Ma che spettacolo! Guarda, ti giuro, mi sono sempre chiesto quando ho giocato al 2, ma come puoi migliorare una grafica del genere? E' fighissimo! E' fatto sempre meglio sto gioco, non si sa come, perché già il primo c'è una grafica che è tuttora strabiliante Ti giuro, io non riuscivo ad immaginare visivamente qualcosa di meglio e più accattivante di questo, ci sono riusciti Alla grande! Complimenti anche stavolta! Bellissimo! Alla posizione numero 17 troviamo Batman Arkham Knight Perché Rocksteady Studios è da sempre sinonimo di qualità E noi vogliamo credere che questo capitolo non sarà da meno Le source hardware hanno tirato fuori di più Tu dici? Io non sono così convinto Per la prima volta le strade di Gotham sono percorribili Quindi io immagino ci siano anche delle persone in giro Ma che diventa? Car armato? Bat car armato? Bat carro! Nooo! Dei nemici su autobili, quindi tu ci fai proprio le battaglie con la Batmobile Si Alla posizione numero 16 troviamo Assassin's Creed Unity Finalmente siamo tornati in Europa La Francia rivoluzionaria è sicuramente il setting migliore dai tempi di Ezio Auditore Sembra proprio che noi saremo i fautori di questa rivoluzione francese Aiuteremo nell'ombra il popolo a ribellarsi Ho come l'impressione che il tuo personaggio sia più agile Eeeeee bellissimo Bah! Bellissimo! Guarda come hanno fatto il controluce Guarda la luce che entra dalle finestre Ah! Bellissimo gli hanno tagliato la testa Alla posizione numero 15 troviamo Rise of the Tomb Raider Il primo capitolo di questo reboot è stato sicuramente uno dei migliori giochi del 2013 Dal sequel non ci aspettiamo nulla di meno Tom Raider! Tom Raider! Non ci sto credendo! Cioè noi quando ci stanno questi giochi noi non diremo niente Saremo paralizzati Spero anche voi Abbracciamo Alla posizione numero 14 troviamo Dead Island 2 Abbiamo amato il primo capitolo E questo trailer ci fa ben sperare per il suo successore E' bellissimo state! Guarda le musee indietro! Questo sembra quasi in Dead Rising ma... Mischiato con Dead Island Cioè non... Dio quanto fa ride poi! Resident Evil 7 C'erremmo tutti! Quando Resident Evil 7 così Guarda che comincio a seguire la serie di nuovo SIPeople SI raging olla posizione numero 13 troviamo Dragon Age Inquisition Questo lo abbiamo inserito per il TODD Grande nostalgico della serie Perché tutti vogliamo che Bioware torni a regalarci un'autentica esperienza fantasy Ma dai, notevole la colonna sonora C'è stanno anche le bestie fantastiche Iconi Chissà com'è l'interazione tra personaggi Perché è molto molto veloce Quindi gestire quattro personaggi con questo ritmo Ma secondo me puoi switchare da un personaggio all'altro Per forza, per forza Alla posizione numero 12 troviamo Call of Duty Advanced Warfare Una delle grandi sorprese di questo E3 Che la grafica al passo coi tempi Sia il segno di una definitiva svolta per la saga Questo è Call of Duty Dopo anni di engine sempre uguale a se stesso Io non ci sono abituato a vedere queste cose da Call of Duty Ragazzi, mi rimangio tutto quello che pensavo su Call of Duty dopo questo video Almeno a livello tecnico Attenzione Questo è Killzone, Battlefield, Titan, Fallout E Crisis E Crisis, tutto insieme in un gioco Sembra un giocone ragazzi Oh, ma sta a vedere che stanno fanno il botto Ah io questo lo compro, non mi frega un cazzo Subito, Day One Alla posizione numero 11 troviamo Battlefield Hardline Quest'anno la lotta con Call of Duty potrebbe rivelarsi più ardua del previsto Nonostante questo Electronic Arts ci ha mostrato un multiplayer innovativo e divertente Due step, vedi? Beh oddio insomma è guardie ladri ma è parecchio pesante C'è un dispiego di forze incredibili C'è una guerra civile più che altro Questa poi è solo Vedi l'evolution, guarda l'evolution che non manca anche qui E soprattutto hanno trovato il modo da quello che ho potuto vedere di inserire comunque la componente dei veicoli Sì, 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 non li hanno eliminati Sono dei veicoli di spostamento Sì, 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 sì È una parte fondante del gameplay il veicolo su Battlefield Quindi non possono eliminarla in tronco Bene, siamo giunti al giro di boa di questa nostra personale classifica Il Toad nel frattempo è morto Per coloro che vogliono scoprire quali sono i dieci titoli che ci sono piaciuti di più di queste quattro conferenze Vi rimandiamo al link qui sotto Mi raccomando, non mancate!